Amici da casa ancora una new entry qui a Cantiamo Napoli, Nico di Napoli, ciao, bentrovato. Buonasera a te e buonasera a tutti che ci guardate da casa. Bellissimo. Allora Nico, parliamo un attimino di te artisticamente, cosa ci proponi di bello? Sì, io ho portato un nuovo singolo, il Guadioni Napoli, scritto e arrangato, messo a Geri Chiscoli, io mando un fatto e bacio. Ciao Geri, ti vogliamo bene. Dimmi. A chi la vogliamo dedicare? Ma un po' a tutte le ragazze che ci stanno ascoltando, vai. Ok, allora la dediciamo a tutte le tue fan. Sì. Lavori discografici in futuro ce ne saranno? Sì, siamo in elaborazione. Lavori in corso? Sì, lavori in corso. Allora con Nico di Napoli noi ci ascoltiamo questa bella canzone, la dedichiamo a tutto il nostro pubblico di Cantiamo Napoli e insieme a Nico di Napoli diciamo... Cantiamo Napoli! Sì, lavori in corso. 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info